Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, mi rendo conto che è passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che ne ho caricato uno e mi scuso per questo, però se non si ha voglia di un video, è meglio non farlo delle due. Oggi vi volevo parlare di Netflix, più nello specifico dell'ultima serie che ho visto su Netflix che è 13 Reasons Why. Ho visto la serie negli ultimi giorni e sinceramente mi aspettavo che fosse molto più drammatica, ma non nel senso che non lo sia poi effettivamente, ma nel senso che la gente vedevo che condivideva tutti i meme riguardo il fatto che si piangeva di rotto eccetera eccetera, quindi sinceramente pensavo che facesse appunto piangere di più. In realtà io non mi sono praticamente mai commossa, anzi forse mai, però non è questo il punto. Il punto è che nonostante non mi abbia fatto piangere, per certi versi è stata abbastanza pesante, magari non come può essere pesante una cosa, magari un film storico riguardo determinati avvenimenti, non lo so per dire Schindler, che per me è sempre un'angoscia incredibile, però comunque abbastanza angosciante nei limiti del target secondo me che dovrebbe avere questa serie, perché io sinceramente penso, magari sbaglio, ma io penso che sia stata fatta per dei ragazzini, cioè secondo me il target principale sono i ragazzini, i ragazzini e i genitori, secondo me io non rientro nella fascia che dovrebbe, diciamo a cui è dedicata questa serie, poi magari mi sto sbagliando, però secondo me è così. Inoltre c'è da dire che gli stessi sviluppatori, cioè gli stessi produttori, scusate, penso abbiano detto in uno speciale, perché ho visto uno speciale, ma l'ho guardato un po' così distrattamente, che cercano di sensibilizzare soprattutto i ragazzini, perché praticamente c'è una studiosa a un certo punto che dice che, non so se è una psicologo o una dottoressa, non lo so, non mi ricordo, che praticamente dice che gli adolescenti hanno una parte del cervello che non è ancora completamente sviluppata e quindi quando subiscono determinati traumi, non specifica di che tipo, però penso in generale, quando un adolescente subisce un trauma, è come se il cervello gli dicesse che questa cosa, cioè il dolore che sente lo sentirà per sempre, cioè non riesce a capire che in realtà poi quel dolore a un certo punto finisce, succede qualcosa di bello e invece l'adolescente tende a fissarsi su questo dolore o questo angoscia eccetera eccetera. E quindi appunto volevano, penso che sia indirizzato principalmente ad adolescenti, cioè per far capire che comunque in realtà se tu scegli di suicidarti ci sono un sacco di conseguenze che provocano, cioè che vengono provocate dalla tua morte, come possa essere il dolore dei genitori, il dolore degli amici, gente che, cioè comunque i sensi di colpa di tutti quelli che ti stavano intorno, che non si sono accorti di quello che ti stava succedendo eccetera eccetera. Penso che sia fatta abbastanza bene, ecco, da un punto di vista dei contenuti sono buoni, secondo me, l'unico problema secondo me è che è un po' lentina, cioè non lenta nel senso che è lenta tipo come può essere The Walking Dead, che è proprio lenta, ma più, come posso dire, cioè ti dà sui nervi a un certo punto, non faccio spoiler, però a un certo punto ti dà sui nervi il protagonista nella sua lentezza psicologica, cioè lui è così lento e tu invece non avresti magari, anzi secondo me il 99% delle persone non avrebbe agito come lui e quindi ti innervosisci, cioè io ho avuto un periodo, un momento mentre stavo guardando che mi stavo veramente nervosendo, poi magari appunto è un problema mio, quindi in realtà l'ho avuto solo io questo disagio, però secondo me qualcuno si rispiecchierà in quello che dico, anche se non ho fatto particolari riferimenti. Comunque dicevo, i produttori hanno secondo me cercato di sensibilizzare le persone riguardo il suicidio, ma soprattutto gli adolescenti stessi, secondo me, perché ti fanno vedere dal punto di vista degli adolescenti stessi cosa causa il dolore dei genitori, eccetera, eccetera. E secondo me sono questi i motivi che potrebbero fermare una persona da fare quello che vuole fare, perché alla fine se tu non hai più motivi per vivere, cioè non può non essere collegato alle persone che ti circondano, almeno io la penso così. Inoltre, anche sempre nello speciale che a un certo punto dicono appunto, che non mi ricordo chi è che lo dice in particolare, dicono che è più probabile, cioè la statistica dice che è più probabile che dopo che una persona, scusate, facciamo caso, c'è una persona, un caro amico si suicida, questa persona sopravvive al suicidio dell'altra persona, nel senso che la prende bene per come si possa prendere il suicidio dell'amico, nel senso che comunque regge psicologicamente la cosa, è comunque più probabile che in lui ci sia in futuro una ricaduta e che quindi quella persona decida di suicidarsi, no capito? Cioè per me questa cosa è un po' cioè non è che è strana, però non so come dire, cioè proprio perché hai visto il suicidio di qualcuno mi sembra assurdo che tu poi decida di suicidarti, però se lo dicono degli esperti io non sono nessuno e quindi mi fido assolutamente ciecamente di quello che dicono gli esperti, perché io non sono una dottoressa e quindi cioè non posso sapere un cazzo. E invece questi erano psicologi, cioè quelli che stavano parlando appunto erano, questo penso fosse una psicologa, poi c'era una, come si dice, un medico penso, non so se è sempre psichiatrico o generico, e comunque va bene. Parlando più nello specifico della serie, secondo me i protagonisti sono ben caratterizzati, alcuni li ami, alcuni li odi, cosa positiva perché il problema è quando non provi un cazzo per nessuno, cioè quando non ti affezioni a nessuno secondo me quello è l'inizio della fine. E poi cosa potrei dire oltre? Ah niente, vabbè, ve la consiglio perché comunque anche se, ripeto, magari non mi fa commuovere bla bla bla, tratta di temi abbastanza importanti, fa riflettere soprattutto su come noi trattiamo le persone, secondo me la gente dovrebbe un attimo capire che non tutti al mondo siamo uguali e quindi magari quando tu dici una cattiveria a qualcuno, che sia di persona o che sia su internet, bisognerebbe un attimo pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Molti mi rendo conto che non hanno questa sensibilità, tra virgolette questa empatia verso gli altri e quindi si permettono di sproluquiare nei confronti del prossimo senza nessun proprio ritegno alcuno. Questo è un problema, cioè se secondo me le persone che insultano sempre gli altri non hanno un minimo di empatia nel confronto del prossimo, non riescono a immedesimarsi negli altri, secondo me sono queste le persone che hanno un problema, non tanto quelli che poi magari vengono bullizzati eccetera eccetera, sono quelli, cioè sono i bulli il problema, sono quelli che hanno un problema che li spinge a insultare il prossimo e a prendersi il gioco del prossimo in continuazione, cioè senza mai fermarsi, fino a spingere la persona, cioè la vittima magari a un gesto del genere, cioè vuol dire che tu veramente non hai un cazzo di meglio da fare nella vita, perché almeno io sinceramente non passo le mie giornate a insultare il prossimo perché ommè ho di meglio da fare, poi magari mi rendo conto che non per tutti è così, già per tutti, non per tutti è così però comunque cioè lo so un attimo scendo dal discorso se mi sto mettendo a fare un dibattito non volevo. Il punto qual è? Che questi telefilm forse, e dico forse, visti da un bullo, forse possono iniziare a dare un'idea, perché non sono sicuro, anzi sono quasi sicura al 100% che un bullo non smetta di essere un bullo solo perché guarda 13 reason why, è ok, però magari iniziando un attimo a far vedere di più queste cose, forse, c'è una possibilità, forse, che magari immedesimandosi nei personaggi, uno che di solito magari fa la parte del bullo, possa capire quanto è sbagliato quello che sta facendo e magari potrà iniziare a fare caso a quello che dice a scuola, a quello che dice ai suoi compagni, a quello che dice su internet. Secondo me il problema è che le persone, i bambini, i ragazzini, gli adolescenti vanno educati, non si può far sì che loro pensino che su internet si possa dire qualsiasi cosa, come? Non si può far finta di niente perché, per dire, nel telefilm i genitori sono all'oscuro di tutto, cioè i genitori non sanno che la ragazza che si è suicidata, che vabbè ragazzi non è uno spoiler, cioè è questa la trama, cioè appena inizia, si capisce, appena, cioè proprio i primi, un minutino iniziale. I genitori della ragazza che si è suicidata non hanno assolutamente idea di quello che sta per succedere e quindi questo comunque fa pensare che in questa situazione i genitori non sono o particolarmente attenti o non c'è dialogo in famiglia perché tutte le volte rimangono sorpresi dal fatto che lei fosse in questa situazione, che fosse in questo stato d'animo e si chiedono perché, perché e quindi in più si trattano anche temi come lo stupro eccetera eccetera, magari il victim shaming che non so come cazzo tradurre in italiano, che è quando, faccio un esempio, una ragazza viene stuprata e si dà la colpa alla ragazza invece che allo stupratore, il che è paradossale, però a volte capita, mi si mettono magari a chiederle com'eri vestita, che ora eri fuori quando c'è nel senso, la mia colpa è avere una vagina tra le gambe, cioè sul serio, però vabbè. Quindi sì, si parla di tematiche abbastanza importanti secondo me e pesanti, però una persona della mia età, tra parentesi ho 24 anni, perché però c'è comunque nel nickname il 92, quindi presumo che tutti ve lo ricordiate, se sei abbastanza adulto questi temi dovresti aver teoricamente già affrontati, quindi per me non c'è stato niente di nuovo in questo telefilm, però mi rendo conto che per un ragazzino questa cosa forse possa aiutare, perché magari lo fa iniziare a ragionare su certe cose che magari un ragazzino per sé non tratta, ma non perché non voglia trattarle, ma perché magari c'è un'altra persona di cui non gliene frago un cazzo, è piccolo, non ha ancora una propria idea, magari fa le cose per piacere agli altri, quindi non è che dice, faccio un esempio, una tizia è stata aggredita, o magari gli hanno fatto delle avance che lei non voleva, magari con i suoi amichetti dice vabbè dai si stava scherzando, quando in realtà ti devi rendere conto che se tu non hai chiesto un cazzo, tu non sei in diritto di fare apprezzamenti verso una ragazza di nessun tipo, perché un conto è dire sei carina, ok? Un conto è fischiargli dietro e dire oh bel culo, cioè queste cose qua, e i ragazzini lo fanno e penso che si rendano, alcuni non se ne rendono conto mai nella propria vita, però alcuni se ne rendono conto molto più avanti che quello che stanno facendo potrebbe essere abbastanza becero e triste, non è giusto, perché nel senso che nessuno te l'ha chiesto, puoi anche stare zitto, cioè se sono due persone in confidenza, un conto è se sei per stare della gente che ti suona il clacson dietro, o ti fa fischi non richiesti, apprezzamenti non richiesti, anche queste tematiche secondo me, ripeto, per una persona magari della mia età, il discorso è già stato affrontato del tutto completamente, perché io ho già un mio pensiero, e quindi vabbè, però magari per un ragazzino che guarda la serie, che adesso non so se tutti hanno 13 anni, cioè però magari, tieni conto che quelli nel telefilm ne hanno 17 presumo, sì 17, quindi se anche lo guardano quelli un po' più piccoli di 14, sì, anche perché mi sa che vietato ai minori di 14, sì vabbè, però a 14 anni inizi le superiori circa, e magari puoi iniziare a farti un'idea con questo telefilm, poi vabbè, non è la sacra bibbia però, come se... non è la sacra bibbia però, insomma, secondo me può essere un inizio, magari può essere un tipo di serie legato ai giovani, visto dai giovani, perché Netflix, parliamoci chiaro, la maggior parte di quelli che l'hanno, presumo siano giovani, visto che, scusate, mi eri auto messaggio, visto che comunque ha un prezzo abbordabile, secondo me molte delle serie che stanno sparando su Netflix, il target, bene o male, è mirato ai giovani. Questo in particolare, secondo me, appunto, è mirato proprio agli adolescenti, cioè adolescenti e i genitori degli adolescenti che magari riescono a rivedere nei genitori stessi degli adolescenti del telefilm. Io diciamo che secondo me sono nella fascia dove non c'entro un cazzo, però comunque godibile, veramente godibile, un po' lentino ma godibile. Quindi, dopo questo poema omerico che ho appena fatto, non l'avrei voluto, non l'avrei neanche dovuto, perché probabilmente scatterà la telecamera porco il clero. Niente, dopo questo poema omerico che ho appena trattato, che ho appena analizzato, direi che posso chiuderla qua. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che le mie riflessioni vi siano interessate. Spero che commentiate anche voi con cosa ne pensate riguardo questa serie e basta. Ci vediamo alla prossima, ciao!